Buongiorno, ben ritrovati e grazie come sempre per seguire questo canale. Allora, perché ho voluto intitolare il video odierno con calma? Perché credo che quanto sia accaduto ieri contro Napoli rispecchi unicamente i valori della Juventus stagione 2021-2022. Quindi comprendo perfettamente la delusione per il pareggio di ieri contro una formazione fortemente penalizzata dalle indisponibilità tra calciatori impegnati in Coppa d'Africa e altri fermati dal Covid. Quindi ci sta che il tifoso juventino veda la partita ieri come un'enorme occasione sprecata. Perché se fossero arrivati i tre punti la Juventus avrebbe messo concretamente nel mirino il Napoli portandosi a meno 2. Invece il distacco resta invariato in relazione all'1-1 con il Napoli. Attualmente terza in classifica a 40 lunghezze con la Juventus al momento quinta in classifica con 35. Quindi 5 punti di distanza. Però io credo che in questa stagione questi risultati il tifoso bianconero li debba sì analizzare anche con spirito doverosamente critico ma debba prendere anche l'intero quadro con filosofia. Perché la Juventus stagione 2021-2022 è questa signori e difficilmente cambierà. Perché non è tanto un discorso di mercato poi di domani vorrò fare proprio un video doc dove vi spiego la situazione, il mio punto di vista e cosa potrebbe cambiare. Perché per me la Juventus qualcosa al fine della fiera farà. Mi sbaglierò ma questa è la mia sensazione. Però il grosso della rosa è questo. Le potenzialità sono queste e queste sono le caratteristiche di una squadra che dovrà arrivare al traguardo. Che dovrà arrivare alla fine della difficilissima stagione che i bianconeri stanno vivendo. E quindi è impensabile immaginare che una squadra che abbia viaggiato a 34 punti nel girone d'andata tutto d'un tratto trovi la tanto agognata continuità di rendimento e possa salire decisamente di tono. Questa è la speranza. Questa è la speranza di chi ti fa Juve. Speranza comprensibile. Speranza condivisibile. Ma pur sempre una speranza. L'andamento di una squadra secondo me va discusso proprio chirurgicamente analizzando i dati, le battute a vuoto, quanto proposto di buono, potenzialità. Però bisogna essere obiettivi lucidi in un'analisi. Altrimenti si è esclusivamente tifosi ed essere esclusivamente tifosi alle volte ti fa guardare le cose come vorresti che venissero viste, ma non con la giusta analisi. E quindi è normale che il tifoso di Juventino questa mattina si sia svegliato incazzato e che invece il tifoso del Napoli sia molto contento perché analizzando anche la partita di ieri, ragazzi, io credo che per il Napoli siano due punti persi. Per la Juve è un punto guadagnato. E questo lo posso dire nuovamente. L'Avoggetto ieri a caldo dall'esterno dello stadio, ma lo ribadisco anche oggi avendo rivisto la partita. È vero, la Juventus ha avuto tante potenziali occasioni, soprattutto nel primo tempo, tante scelte sbagliate agli ultimi 30 metri, potenzialmente anche la superità numerica per mettere in difetto i centrali azzurri, scelte errate nei momenti in cui non si doveva sbagliare. Ma se analizziamo l'interpretazione della partita, l'identità, la tranquillità, la calma con cui il Napoli si è riuscito a portare avanti il suo canovaccio tattico, per me ieri la grande squadra che si è vista allo stadio è stata il Napoli, perché il Napoli che si presenta senza tantissimi titolari e riesce comunque a fare quel tipo di partita, non creando tantissimo, ma comunque facendo sentire la presenza, beh, per me è sinonimo di grande maturità e vanno fatti complimenti agli azzurri. E qua, che ci sono i meriti del Napoli, indubbiamente escono anche, emergono, i demeriti di una Juventus che però è sempre la stessa. Noi quando analizziamo la Juventus di questa stagione, post partita dopo post partita, diciamo sempre e sistematicamente le solite cose. Una squadra che crea tanto e segna poco, una squadra che alle volte si abbassa eccessivamente, una squadra che va troppo sotto ritmo quando... Anche ieri c'è stato un momento della gara, perché Federico Chiesa pareggia all'alba del secondo tempo, in cui anche secondo me è d'inerzia con uno stadion che non è quello che conoscevamo dieci anni fa, ma che si era acceso, per forza di cose, in occasione del gol di hashtag Chiesa più altri dieci, invece poi la Juve si abbassa, abbassa il ritmo e dà nuovamente fiducia all'avversario. Ci sono situazioni di gioco in cui, secondo me, tu devi ammazzare la partita, devi ammazzare, calcisticamente parlando, l'avversario. E dopo il gol di Chiesa, insomma, per inerzia la Juventus ha avuto quei 5-10 minuti in cui, se avesse accelerato, probabilmente avrebbe potuto creare qualcosa di pericoloso. Invece, si è andati in una gestione complice anche alle caratteristiche del Napoli, perché il Napoli ieri ha lavorato molto bene con Lobotka ed Emme, quindi con i due play davanti alla difesa, ha fatto correre tanta vuoto il centrocampo della Juve, pressione di Locatelli, sempre fuori timing, McKennie un po' troppo ruffone, e quindi probabilmente la Juventus si è anche spaventata considerando le caratteristiche del Napoli, che poi è una squadra che ha qualità, e ieri aveva, soprattutto, mi sembra, gli uomini davanti in buona luna, perché Insigne ha fatto per me una bellissima partita, Mertens, con la parte, ha fatto comunque una buonissima partita, anche Politano stesso, Zelisky, un giocatore che, se fosse la Juve, farebbe capitano e vicecapitano contemporaneamente, che ha delle qualità fisiche e delle capacità tattiche devastanti nel lavorare tra le linee a fare da pendolo, abbassarsi ed alzarsi, quindi, evidentemente, la Juve ha capito ieri come non fosse proprio serata da premere il suo acceleratore e non pensare alla fase difensiva, però parliamo anche di una squadra, la Juve, che se riesce a mantenere il clean sheet molte volte, o il più delle volte di quando vince, è perché fa gol e poi la porta resta inviolata. Quando invece va sotto e si ritrova a dover fare la partita, magari ribaltarla, non ci riesce praticamente mai, non ci riesce praticamente mai e questo è diventato ormai un problema atavico per la Juventus stagione 2021-2022. Quindi, perché io dico calma? Perché la stagione sarà così, è bene mettersi il cuore in pace e credo che poi anche già le 19 partite precedenti avrebbero dovuto fare scuola. Quindi, pensare che tutto in un tratto la Juventus riesca ad anellare totte vittorie consecutive, esprime un certo tipo di gioco, no, la Juventus in questa stagione non lo farà. Questa è la mia opinione personale. Io, tra l'altro, ero stato anche abbastanza criticato da qualcuno, ovviamente in maniera simpatica, quando avevo fatto il video post-pareggio di Venezia, con tanto di dati Opta, per quanto concerne tuttora la quota media punti per qualificarsi in Champions, vi avevo detto, dopo quel match, che probabilmente sarebbero serviti 78-82 punti. Questa è la fascia per entrare in Champions nella prossima stagione. Ora, vedremo quello che combineranno Napoli-Atalanta, perché io credo che Inter-Milan possiamo già considerare le squadre che non puoi prendere, non puoi riprendere per via del passo. E comunque, in Milan 10 punti in più della Juve. Può succedere di tutto, abbiamo visto anche il Napoli perdere due partite nel finale del 2021, sanguinose in casa, però, secondo me, Inter-Milan avranno tutt'altro passo, soprattutto considerando come i rossoneri siano anche fuori dall'Europa. Il Napoli è una squadra che ha avuto i suoi momenti di down, però è uscita compattata dalla partita di ieri come squadra, e questo ti può dare ulteriore autostima. L'Atalanta è sempre difficile da decifrare, ma per me ha dei valori di livello e comunque riuscirà a performare in determinata maniera. Quindi, lo sapevamo anche l'altro ieri, che per la Juventus qualificarsi quest'anno in Champions League fosse una missione particolarmente complessa. E per me la partita di ieri non sposta niente, fa solamente comprendere come Inter-Milan-Napoli-Atalanta in questo momento siano superiori nettamente alla Juve, per interpretazione tattica, probabilmente anche per qualità a livello di collettivo. Non credo a livello individuale, perché poi qua si potrebbe aprire un discorso nel discorso con i singoli della Juve, che se li analizzassimo difficilmente poi si spiegherebbe questa classifica. Ci sono i limiti di tutti, ci sono i limiti di tutti, e quindi io vi invito davvero a optare per la filosofia, perché la Juventus è questa e in questa stagione non cambierà. Poi vedremo se arriverà qualcosina al mercato, oggi vedete già che sono tantissime, è possibile che la Juventus non si accorga che se non dovesse fare mercato non arriverebbe mai quarta. Queste sono valutazioni che vengono fatte alla continassa, le partite le vedo io, le vedete voi, e le vedono sicuramente anche chi lavora all'interno del mondo Juve. Vedremo cosa accadrà, però io dico calma, perché comunque i limiti saranno questi, e per cambiare passo ci vorrà anche, mai come in questa stagione, tanta ma tanta fortuna, e soprattutto che là davanti qualcuno crolli, un po' come era accaduto al Napoli nel finale dello scorso anno. Però sono gli stessi, i limiti sono gli stessi.